Aspetta che il caso lì si è... No, ritornando a quello che avevo detto prima Sai chi è Kobayashi? Kobayashi, quello del film I soliti sospetti L'avvocato di... È lui, perfetto, perfetto No, stavo dicendo, ritornando a quello che ho detto prima C'è la pubblicità, aspetta, torniamo subito Dopo la pubblicità No, lo dico adesso, lo dico adesso Vai Ermanno, vai, vai, torniamo subito Non dimenticarti C'era Casoli che doveva dire... Ma no, no, io speravo... Lui si è dimenticato Ma sei scemo? Durante la pubblicità sei scemo? Ma spiegate, adesso non la faccio più la domanda No, adesso la faccio più No, adesso la faccio No, così impari, non la faccio più No, adesso falla, dai No, era perché volevo sapere per quale motivo... Cioè, come faceva... Che bella domanda, chiara Un'azienda come faceva per quale motivo, sapendo quella cosa... C'è un punto No, era che come fa un'azienda a sapere che la sua macchina è un cesso o che non va bene Quando non c'è il pilota fenomeno che te la può fare venire fuori Nel senso che la Ducati si sapeva che non era la miglior moto, però era una buona moto E con Stoner vinceva, mentre adesso sappiamo che la Ducati non è... Tredozzi, spiega anche a noi cosa... Ho ascoltato Mariani No, 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 dai, come fa una squadra... C'è anche un altro pilota che vede subito il confronto della macchina Poi chiaro che il confronto di una macchina rispetto all'anno successivo Ha dei parametri che comunque danno un valore della prestazione della vettura Che sono i parametri aerodinamici, se ha un vantaggio Quello di lì è un dato reale del valore della vettura rispetto alla precedente E poi tutte le conoscenze della vettura ti danno un valore della macchina rispetto al prodotto precedente E' chiaro che cerchi di farlo migliore e se non lo fai migliore è riconosciuto che ha delle mancanze E sei in grado di capirle per anche poter intervenire su questo Grazie Grazie